L'importanza e il ruolo dell'università nei processi formativi attuali è elevatissima perché è l'università che deve da una parte individuare in che modo le competenze necessarie cambiano e come devono essere aggiornate e allo stesso tempo è l'università che deve progettare quei percorsi formativi che siano in grado poi di realizzare concretamente queste competenze e il loro cambiamento nel tempo. Grazie